Ho visto il catalogo, è stato un onore, devo dire che è veramente un piccolo gioiello, anzi un grande gioiello. Grazie. Allora tanto è stato già detto, però io le volevo dire che questi colori mi hanno comunicato molta positività, molta serenità. Quindi penso che anche lei, forse dopo anche un cammino di sofferenza, abbia raggiunto questa positività e questa serenità, perché si vede dalle opere e l'artista si riconosce dalle opere, quindi dalle opere che presentano. Quindi immagino che lei sia una persona solata e positiva. Ma non perché non avevi problemi. No, no, ecco, stavo dicendo, al di là, però io amo questo aspetto che lasciamo. E anche l'aspetto che voglio raggiungere, di avere un'arte, ma questo mi interessa. Anche per fare, come si dice, una calcura dei colori, curare una persona... Cromotere, sì, promotere... Sarebbe proprio un concetto bellissimo. Anzi... Scusi. No, no, no. Ah, perché io volevo raccogliere l'Ottascone, visto che ci sono tante poetesse che hanno detto delle poesie. C'è una poesia che a me piace tantissimo, di Costantino Cavapis, Cavapis, Itaca. E penso che sia, è proprio il mio pensiero, quel pensiero rispetto alla mia arte. E poi magari, se qualche poetessa vuole essere l'arte, io vorrei un concerto con voi. Grazie, un concerto. Mi potete organizzare, perché comunque... Grazie a tutti. Grazie.